Prima iniziene con il video ti ricordo che è ufficialmente online la nuova vendita delle ricoveri per PS4 quindi se vuoi ricevere aggiunte di soldi, delaxo e proprietà sul tuo account devi contattarmi su Telegram, iscriverti al canale e attivare la campanina a fianco al tasto iscriviti Inoltre ti ricordo di entrare anche nel gruppo Telegram per tutte le news relative a GTA V online e anche se vuoi acquistare magari un save wizard oppure un account moddato trovi tutti i link in descrizione Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video glitch di GTA V online in questo video ragazzi vi porto qui sul canale una nuova attività FK survival molto semplice io ovviamente prima di iniziare vi ricordo che dopo tanto tempo che siamo qui su GTA nuovamente di iscrivervi al canale per supportarmi al massimo, attivare la campanellina ed entrare nel gruppo Telegram per avere il link dell'attività, la trovate tra i messaggi fissati a questo punto quando avrete cliccato sul link vi comparirà ovviamente tutta questa schermata dove dovrete andare a inserire un'età maggiore N qua sulla Rockstar ovviamente fate l'accesso e a questo punto andate ad aggiungere l'attività tra i preferiti vi chiederà di fare l'accesso, voi andate ad inserire le vostre credenziali e in seguito aggiungete nuovamente l'attività tra i preferiti ve lo mostro perché molti mi hanno chiesto solitamente come fare quindi è molto semplice, ve l'ho mostrato ora in questo punto adesso quando tornare su GTA andate a cliccare option attività, attività tra le preferite vi dirigete sulle sopravvivenze e avviate questa FK Survival ragazzi a questo punto quando state qua questa attività FK è davvero semplice non dovete andare a modificare nessuna impostazione ma bensì a confermare e startare l'attività a questo punto una volta che si sarà caricata l'attività potrete decidere se effettuare due metodi ovvero se giocare attivamente appunto l'attività in maniera attiva quindi senza utilizzare la FK a questo punto che cosa dovrete fare? suicidarvi inizialmente e poi una volta che sarete rispawnati sulla vostra piattaforma molto semplicemente vi buttate da quest'altro lato dove è presente il tetto ovviamente se svolgete questo metodo potrete farmare più RP perché dovrete andare ad uccidere i nemici lungo il ponte ovviamente io però vi consiglio di fare la FK che comunque guadagnerete davvero tantissimo in questo caso come potete vedere basta dirigersi qua lungo il ponte scavalcare queste recensioni e andare lungo il ponte dove sono presenti i nemici al termine a questo punto quando sarete qui se volete utilizzare il metodo FK dovrete impostare il controller in questo modo con un elastico in modo tale da non farvi espellere dalla sessione una volta buggato il meccanismo il glitch sarà praticamente funzionato oppure iniziare a sparare con una vostra pistola in questo caso vi consiglio l'App and Automizer che è davvero molto semplice ovviamente per farlo dovrete andare a posizionare il vostro elastico sull'R2 del controller per buggare meglio il tutto e una volta completate tutte e 20 le ondate avrete passato la sopravvivenza e vi saranno dati ben 73.000 dollari e 4.500 RP signori e signori il glitch è ormai portato a termine e l'attività moddata questa è fantastica vi ricordo di aggiungerla tramite il link qui in descrizione del mio gruppo Telegram la troverete tra i messaggi fissati in alto inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina e lasciare un sacco di like a questo video oltre vi ricordo che è stato aperto il nuovo shop del mio canale dove potrete andare ad acquistare recovery per PS4 account moddati e save wizard a prezzi eccezionali rapporto qualità prezzo signori incredibile quindi ci vediamo in un prossimo video un saluto da Pablo QGTA e bella ragazzi ciao